Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz, l'unico social network dedicato agli investimenti. Io sono Riccardo Zago e come ormai sapete mi occupo della sezione dei servizi premium trading con Ichimoku. Proprio questa sera si svolgerà la sezione appena menzionata e di conseguenza vi invito a venire qui su investire.biz dalle ore 20 in poi. Per chi fosse interessato, qui sotto una breve sessione d'esempio. Prima di passare ai grafici e di conseguenza alla solita video analisi giornaliera vi invito a consultare il calendario 20 dove troviamo alle 18 questa sera Enrico Lanati che andrà a scovare le migliori opportunità di investimento con i certificati che a mio avviso sono veramente molto interessanti. E' un'operatività veramente molto interessante e anche io la pratico. Successivamente, quindi sezione dei trading con Ichimoku, questa sera vedremo veramente molte cose, Ichimoku, analisi tecnica, stagionalità su diversi strumenti e anche una visione per il prossimo periodo, quindi anche per la prossima settimana. Inoltre voglio dirvi che non eseguirò la video analisi domani perché saremo a Verona. Quindi vi invito tutti a venire a Verona dove Luca Discacciati ed Enrico Lanati parleranno delle loro strategie intraday. Quindi se qualcuno ha piacere di fare due chiacchiere, insomma io sarò presente. Non so ancora se fin dal mattino oppure a partire dal pomeriggio, ma comunque invito tutti quanti a venire, sarà veramente una giornata fantastica. Inoltre per gli utenti di investire.biz alla sera andremo anche a mangiare una pizza tutti quanti insieme. Quindi giornata veramente molto molto interessante, quella di domani a Verona. Che cosa voglio aggiungere adesso? I grafici. Quindi andiamo a prendere i grafici e andiamo a vedere che cosa sta facendo il prezzo su determinati strumenti, come stiamo gestendo le posizioni che abbiamo in essere e quali altre possibilità ci saranno. Partiamo quindi con EuroCAD. Allora, EuroCAD, innanzitutto vi invito a leggere l'articolo che ho fatto per voi. Uno studio completo sullo strumento in questione, provvederò senza ombra di dubbio a rimetterlo in cima alla lista così da poterlo leggere molto più facilmente. In più poi aggiungerò anche GBP-AUD che comunque sta sempre andando dalla parte giusta e questo mi fa molto piacere. Partiamo però con l'analisi. Allora, sul grafico giornaliero che cosa vediamo? Come spiegato ieri, qui io vedo un ribasso sia a livello stagionale sia a livello di Ichimoku perché ho intravisto un'onda di questo tipo. Vediamo come ieri i prezzi, no, come il 21 febbraio, attenzione i prezzi hanno rotto questo supporto. Posto 1,39. Ieri che cosa, come si sono comportati? Abbiamo visto che nella giornata di ieri sono saliti veramente molto ma poi hanno chiuso al di sotto. Guardate che bella chiusura al di sotto. E oggi, insomma, stiamo cercando di prendere i nuovi ribassi. A mio avviso, come bisogna comportarsi qui? Per chi ha una propensione a rischio un po' più alta, io almeno ho fatto in questo modo. Sono entrato al livello di 1,38 e 43, quindi adesso sono in una leggera perdita ma penso che, insomma, questo strumento possa andare nella direzione corretta. Staremo a vedere comunque nei prossimi giorni. Un'operatività invece con una propensione a rischio più bassa si può prendere in considerazione di operare a ribasso sempre una volta superato all'area di 1,37,50 o 1,37,20. Non voglio dilungarmi molto perché questa sera alla sessione ci saranno veramente molte cose da chiarire sia su questo strumento ma anche su tutti gli altri strumenti, quindi vi invito a partecipare. Detto questo, potrei passare sicuramente al prossimo strumento. Volevo solo aggiungere che qui i target sono abbastanza ampi e abbiamo sicuramente una visione temporale, tecnica e sulle onde Ichimoku molto molto chiara. Di conseguenza andremo a vedere come si può operare su questo determinato strumento questa sera anche per chi non è ancora in posizione. Diciamo ora che si può senza ombra di dubbio passare a euro-dollaro che anche qui abbiamo la nostra visione, questa non l'ho, non ho fatto l'articolo ma penso che si possa andare a ribasso ancora. Questo non è detto ma noi sappiamo come comportarci con Ichimoku e abbiamo il rapporto rischio-rendimento sempre estremamente elevato. Partendo da un grafico giornaliero che cosa possiamo vedere? Che i prezzi dopo una forte discesa sono usciti dalla nuvola e guardate, innanzitutto hanno raggiunto il primo target che avevo impostato io personalmente. Poi ci sono anche altri target, diversa gente discute, diverse persone anche studiosi di Ichimoku discutono su un possibile ribasso dei prezzi. Io non posso che trovarmi d'accordo in quanto anche a livello stagionale ma anche a livello tecnico come vedremo questa sera ho una visione ribassista. C'è da aggiungere però che cosa? Che vedremo questa sera fino a quando dureranno questi ribassi, fino a quando il dollaro continuerà ad apprezzarsi e da quando potrebbe esserci un cambio di tendenza, un cambio di rotta. Questa sera vedremo tutto e sapremo anche come comportarci anche con ordini pendenti che possono andare al livello di 1.02 oppure di 1.0350 nel lungo termine. Quindi analizzeremo veramente molte cose. Per ora che cosa fare qui? Io sono entrato in posizione, vediamo che questo livello non è ancora stato rotto quindi non è neanche detto che i prezzi continuano a ribasso ma ci sono delle buone possibilità in quanto almeno la mia visione dà proprio questo. Comunque ci saranno veramente molte cose da approfondire. Se vogliamo andare su un 4 ore per vedere la situazione un po' più da vicino che cosa vediamo? Vediamo che i prezzi hanno rotto la Kijun io sono in posizione più o meno da questo livello qui sono scesi raggiungendo il target guardate quante volte ci hanno rimbalzato sopra nella giornata di ieri c'è stato verso fine giornata c'è stato un forte apprezzamento dell'euro infatti i prezzi sono tornati verso l'alto come abbiamo visto anche su Eurocad non so se ve ne siete accorti adesso siamo in questo punto cosa molto interessante è che se ci sarà un ulteriore ribasso quindi con la rottura di questo livello scusate andremo ad andremo incontro al segnale delle tre linee di Ichimoku che darebbe ancora ulteriore forza a ribasso su questo strumento passiamo successivamente a un altro strumento interessante che menzionavo ieri anche qui diversi studiosi di Ichimoku stanno analizzando questo cross al rialzo io ho detto che non avrei operato in quanto ho anche già delle altre posizioni e sono esposto ma a mio avviso qui un rialzo ci poteva stare tutto proprio come spiegato ieri ovviamente come si stanno dobbiamo vedere come si stanno comportando i prezzi qui scusate innanzitutto vediamo che la linea Ichimoku è al di fuori della nuvola e questo è solo che un bene c'è questo lungo Senkus Pambipiato quindi bisogna fare attenzione un livello dove poter mettere degli ordini pendenti è sicuramente almeno a mio avviso io farei così quello di 1.006 possiamo vedere i prezzi come hanno rimbalzato diverse volte su questo punto però andiamo a vedere più da vicino la situazione per cercare di capire come comportarci vediamo che qui siamo proprio in un rimbalzo Kijun valido quindi questa è una buona posizione per entrare a rialzo almeno a mio avviso io sono entrato con un piccolo con una piccola posizione in quanto è come ho già spiegato ho altri insomma ho altre visioni però una buona operazione con dei buoni rapporti rischi di rendimento ci può stare con sites ridotte perché vi dico che non sono insomma non ho una visione alquanto positiva di questo trade perché io almeno personalmente vedo un apprezzamento del dollaro canadese nel prossimo periodo però che cosa ho detto è anche vero che vedo anche una discreta forza per il dollaro australiano quindi non è uno degli strumenti su cui punto di più ecco questo volevo questo volevo dire quindi che cosa andiamo a fare sicuramente delle operazioni con degli ottimi rapporti rischio rendimento si possono sicuramente provare staremo a vedere come proseguirà la situazione chiuso anche dollaro australiano contro dollaro canadese passiamo al nostro GBPOD che ho accennato prima vediamo che qui i prezzi negli ultimi giorni sono un po' laterali come possiamo vedere sono un po' laterali e non prendiamo un time frame settimanale che così andiamo a vedere la situazione anche un po' da distante vediamo che insomma qui il prezzo ormai rimbalza da diverso tempo a livello di 1.62 prendendo il giornaliere invece lo possiamo vedere ancora meglio insomma questo livello fa fatica ad essere superato vedremo se ci sarà un successivo ribasso con ulteriore forza per portarci al nostro primo target che cosa vediamo però di interessante è che questa trendline è tracciata bene e a mio avviso è molto valida vediamo come ha agito bene più volte proprio su questo strumento e sembra che tenga al di sotto i prezzi anche questa sera ci saranno degli approfondimenti su questo strumento inoltre vorrei chiudere con il caffè qui non voglio anticiparvi niente anche se ieri insomma avevamo visto come l'uscita dei prezzi dalla nuvola dava dei buoni segnali di acquisto ulteriore segnale possiamo vedere che la linea Tenkan abbiamo la linea Tenkan la linea Kijun e la Senkuspana questo è uno dei segnali dati da Ichimoku che da maggiore forza che cosa però bisogna aspettare chi mi segue sa perché quindi fare molta molta attenzione diciamo che il segnale delle tre linee è già avvenuto qui quindi è già convalidato come segnale e come possibile supporto alla nostra visione rialzista come dico sempre io opero più sul giornaliero e di conseguenza andiamo a vedere che la rottura di 15.550 potrebbe portare a nuovi e forti rialzi comunque ne parleremo questa sera e magari cercheremo anche di entrare con delle size veramente molto ridotte magari anche su un 4 ore vedere che cosa si può fare di interessante senza andare incontro a stop troppo ampi direi che per oggi ho chiuso gli strumenti da vedere sarebbero ancora molti ma il tempo che abbiamo a disposizione è terminato di conseguenza io vi invito a venire qui su investire.biz come sempre potete commentare gli articoli degli altri ma anche fare i vostri articoli vediamo che comunque ogni giorno ce ne sono sempre di più questo non può farmi altro che piacere vi invito quindi stasera alla sessione di trading con i cimoco alle ore 20 qui su investire.biz concludo e vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti